Calcolare il dominio della seguente funzione f di x è uguale ad e alla x fratto x alla seconda più 2x più 1. Le risposte possibili sono a x diverso da 0, b x diverso da meno 1, c tutto r, d x maggiore di 0 e x maggiore di 0. Ragioniamo su questa nostra funzione. Al numeratore abbiamo un esponenziale, mentre al denominatore abbiamo un polinomio dato da x alla seconda più 2x più 1. Tuttavia, f di x rappresenta il rapporto tra l'esponenziale e il polinomio, quindi abbiamo di fronte una funzione fratta. Tornando all'esponenziale, sappiamo che definito per ogni x reale, quindi il suo dominio, ovvero il suo campo di esistenza o ancora l'insieme di definizione, è tutto r. Lo stesso vale per la funzione polinomiale, solo che, poiché questa funzione polinomiale si trova al denominatore e costituisce quella che è la funzione fratta, dobbiamo richiedere che il denominatore non si annulli, perché altrimenti questa frazione nell'insieme dei numeri reali non avrebbe senso. Quindi dobbiamo richiedere che x alla seconda più 2x più 1 sia diverso da 0. Guardando bene x alla seconda più 2x più 1, riconosciamo che si tratta del quadrato del binomio x più 1, quindi x più 1 alla seconda deve essere diverso da 0, ma questo accade se e soltanto se x più 1, che è elevato alla seconda, è diverso da 0, il che vuol dire che deve essere x diverso da meno 1. Pertanto la risposta corretta è la b.